per cui è la funzione ondo, basta che frega, si accelera, adesso visto che c'è un po' di coda, proviamo anche un'altra cosa, sotto la freccia c'è, sotto, provi ad attivarlo, sotto, esatto, ok, adesso provi a non frenare, lo fa la macchina da sola, ah me l'ha attivato, l'ho attivato, vede che abbiamo messo qui, l'ha frenato da sola, esatto, a 30 km, adesso vede quel 30, abbiamo fatto il cruise control adattivo, per cui automaticamente la macchina frena, cioè praticamente non fa di incidenti, esatto, diciamo che aiuta tantissimo, è un supporto alla guida, se frena da sola, adesso che è in hold, vede che sopra lo zero è venuto fuori hold, per ripartire dovrà leggermente dare un colpo di acceleratore, ma leggerissimo, e la macchina si riattiverà e partirà da sola, sempre leggendo, poi praticamente lo devo mettere in corso se lo voglio, esatto, no, fin quando è blu, rimane attivo, rimane, rimane, se lei frena lo disattiva, lo disattiva, ah è come l'altro, cosa è il contro, esattamente, però ti frena anche questo, però adesso do un colpo di acceleratore, leggero, attenzione, si infilano da tutte le parti, quella moto qua, mamma mia, noi andiamo dritto poi, non sulla destra, eh, le moto sono così,